Ha abbandonato in queste condizioni il pick-up della folle corsa lungo la Callalta, iniziata verso le 6.30 a Ponte di Piave e terminata col suo arresto in tarda mattinata in stazione a Treviso. Protagonista un ventenne marocchino residente a Ponte di Piave che questa mattina ha rubato il mezzo parcheggiato davanti ad un bar lungo la strada per 90, lanciandosi poi a forte velocità verso Treviso. Una folle corsa lungo la Callalta, scansato dalle auto che procedevano in senso contrario e inseguito dai carabinieri che l'avevano intercettato quasi subito all'altezza di San Biagio, ma anche costellata da urti con tre auto che procedevano nell'altra corsia colpite nei soppassi effettuati nella guida spericolata ad alta velocità. Ma una volta giunto alla rotatoria di Olmi ha prima saltato un cordolo per poi distruggere definitivamente il veicolo contro questo scalino di cemento. A quel punto il ventenne ha proseguito la fuga a piedi, dileguandosi nel traffico, costantemente seguito a distanza dai carabinieri con l'intento di evitare possibili gesti inconsulti, mentre altri rinforzi dell'arma giunti sul posto prestavano soccorso agli automobilisti feriti negli impatti e evitavano che avvenissero altri incidenti nel caos del traffico bloccato. L'uomo costantemente a piedi ha poi raggiunto la stazione di Treviso, dove probabilmente contava di sparire definitivamente rubando un'altra auto, ma non appena ha cercato di forzare una portiera è stato prontamente bloccato dagli agenti della Polfer, allertati della sua presenza dai carabinieri, che poi hanno proceduto all'arresto. Il giovane marocchino è stato denunciato per furto aggravato, danneggiamento, omissione di soccorso e guida senza patente. Apprensione per quanto accaduto ma anche sollievo per l'arresto e per le lievi conseguenze ai cittadini coinvolti è stato espresso in un comunicato dal sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, per la quale ora si augura che la giustizia sia implacabile e che questo criminale rimanga in cella a lungo.